Non me la sento io dopo due anni di calci negli Zebedei di mandare a casa un ragazzo o una ragazza che in quel momento l'ho trovata senza Green Pass. Filippo mette le cose in chiaro, come recita un cartello pubblicato sui social dal 16 ottobre, le nostre ragazze e ragazzi lavoreranno sempre Green Pass o non Green Pass, noi non licenzieremo nessuno. Eh sì, perché il titolare dello storico locale atipico da Ciavarini, strada Molino Maggiotti a Pesaro, non condivide l'obbligo che da venerdì interesserà tutti i lavoratori italiani e nel suo caso i tre dipendenti, ai quali nel periodo estivo si aggiungono altri collaboratori. Da venerdì però, in base alle nuove norme, chi si presenta sul posto di lavoro senza lasciapassare verrà allontanato, ma per il cinquantenne un'azione di questo tipo e qui verrebbe un licenziamento e l'imprenditore non ci sta. Non ci sono deroghe particolari, non c'è una malattia che puoi prendere, non c'è un permesso, non c'è le ferie. È semplicemente un allontanamento al posto del lavoro, non remunerato. Quindi vuol dire che tu vieni a lavorare e io non ti do i soldi, e allora io ti mando a casa, tu stai a casina, non prendi i soldi e non sei tutelato da nessuno. Non mi pare corretto. Dovremmo essere ancora in democrazia, lo Stato è quello che è, per carità di Dio, con i suoi lati positivi e negativi, però dovrebbe esserci un pelarino di assistenzialismo. E non c'è purtroppo, non c'è. Tra l'altro, come ricorda Ciavarini, la vaccinazione non porta all'immunità. È un afformamenti. Se adesso sta venendo fuori la storia che io sono vaccinato, ok, problemi zero. No, non è vero. Io, vaccinato, sono portatore del virus come qualsiasi altra persona. Quindi se tamponate i non vaccinati per una questione di ripicca o per una questione di impuntamento delle regole o perché comunque sia volete fare i coercitivi nei confronti di chi non è vaccinato, perché non dovete tamponare anche i vaccinati? Altro problema è la spesa mensile che ricade sulle spalle dei lavoratori che, se non vaccinati, dovranno eseguire i test rapidi ogni 48 ore. Io devo costringere un mio dipendente che è stato, tra virgolette, preso per il collo con la cassa integrazione perché, lo vorrei ricordare a tutti, i nostri dipendenti, come tantissimi migliaia di altri dipendenti, sono stati in cassa integrazione in questi due anni per via dell'oggettività del Covid. Quindi hanno chiuso le aziende per forza, quindi ho torto collo. O si faceva così, o si faceva così. Hanno percepito la prima mensalità, che equivale a circa 400 euro, non 1.200, 1.300, quanto prendevano prima, ma 400 euro, quindi un terzo di quello che prendevano, dopo sei mesi. La mia domanda è, questi ragazzi, per questo lasso di tempo, quindi sei mesi, cosa hanno mangiato? Il panino con la mortadella o sono andati alla Caritas? Il discorso è solo questo. Quindi noi per sei mesi abbiamo dato da mangiare il panino con la mortadella ai dipendenti, va bene, soffrono, non c'è nessun problema. Adesso li devo coercire di stare a casa oppure di spendere 300 euro al mese, ma togliamo soldi ai lavoratori, questa è una guerra tra i poveri, come funziona? Noi ci dobbiamo pagare i tamponi e per pagare questi tamponi oggettivamente dobbiamo sborsare di tasca nostra. Il tampone ai portuali di Genova viene regalato dallo Stato e noi ce lo dobbiamo pagare. Quindi la giustizia è uguale per tutti? No, non è uguale per tutti. E allora, ma di cosa stiamo parlando? Io dico semplicemente, volete tamponare le persone per essere sicuri che non trasmettono il virus? Fatelo anche a chi ha fatto il vaccino. Rendetelo obbligatorio anche a chi ha fatto il vaccino. Chi ha fatto il vaccino può trasmettere il virus a tutti. Benissimo, nella stessa maniera in cui un non vaccinato può fare.